Previsioni del tempo per giovedì 1 luglio su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Infiltrazioni di origine settentrionale indeboliranno l'anticiclone delle azzorre presente sulle nostre regioni, quindi avremo una giornata in prevalenza soleggiata con addensamenti diurni lungo la dorsale ma senza fenomeni di rilievo. Prevista una blanda nuvolosità in arrivo nel corso della notte, specie tra Puglia e Lucania. Temperature stabili o lieve ascesa con punte di oltre 30 gradi, clima più fresco sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi a largo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Giornata caratterizzata dalla presenza di correnti di aria fresca di origine settentrionale che apporteranno una vivace variabilità diurna, specie nelle zone interne della regione. Avremo pertanto possibili annuvolamenti nel Barese e sulla Puglia settentrionale, temperature stabili o lieve ascesa con punte di oltre 30 gradi, clima più fresco sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi a largo.